tre del ciclo lezioni d'Europa, un minuto che intanto condivido le slide. Mi fate sapere cortesemente se le vedete? Claudia, perfetto. Perfetto, grazie mille. Dalla regia dico che possiamo, che si vede tutto, perfetto. Allora, come vi ricordo, mi dispiace che per quelli che ci stanno seguendo in maniera, diciamo, regolare, ogni volta devono un po' ricordare tutte le, assistere a tutta la presentazione, ma la facciamo perché a volte abbiamo dei nuovi utenti e quindi abbiamo un po' bisogno di ricordare come nasce l'iniziativa e che cosa prevede. Allora, come vi dicevo, le lezioni d'Europa sono un'iniziativa che nascono su un format ideato dall'Università di Siena. Successivamente, quando c'è stato il Covid nel 2020, l'Università di Siena decise di estendere il partenariato ad altri centri di Europe Direct e attualmente fanno parte del partenariato ai centri di Europe Direct, appunto il nostro, che è presso il formazepia dell'Università di Siena, che appunto è stato l'ideatore del Forma, ma anche del Consorzio Universitario di Trapani in Sicilia, l'Università di Chieti e la provincia di Verona. Inoltre partecipano come partner a questa iniziativa la Regione Lazio, nello specifico la Direzione Programmazione Economica, il Dipartimento per la Programmazione della Regione Siciliana, il Servizio 1, appunto quello della comunicazione, l'Associazione Nazionale di Dirigenti Scolastici della Regione Siciliana, infatti partecipano a questa iniziativa anche alcune scuole, l'Università degli Studi di Palermo e poi abbiamo il Consorzio, l'Associazione Politeia. Chiedo scusa, sono andata troppo avanti. Chi può partecipare alle elezioni d'Europa? Tutti, tutti coloro che sono interessati ad approfondire i temi dell'Europa e in particolare quest'anno noi stiamo dando una spinta un po' più forte verso i finanziamenti europei, perché dalle domande che ci giungono al nostro centro quasi l'ottanta per cento sono inerenti ai finanziamenti europei e quindi pensavamo di fornire una sorta di informazione, virgolette formazione su questi temi. Chiaramente noi stiamo tenendo queste lezioni, ma il dialogo con voi rimane aperto perché potete contattare tutti i centri partner dell'iniziativa anche successivamente a questo ciclo di lezioni. Un appello, se state partecipando come classi, se cortesemente ci comunicate quanti studenti stanno partecipando per classe, perché a noi serve questo per i fini del monitoraggio. Per quanto riguarda l'attestato di iscrizione, perché questa è una delle domande che ci giungono in maniera abbastanza regolare, vi comunico che questo viene inviato da noi una settimana dopo l'evento, vi verrà inviata una mail che vi chiederà di compilare un questionario di valutazione. Dopo la compilazione del questionario di valutazione potrete scaricare il certificato di iscrizione. Oggi parleremo delle opportunità di finanziamento del programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori, noto anche come programma CERV. All'interno di questo programma abbiamo anche una sezione Daphne che si occupa della violenza contro i minori e contro le donne ed ecco perché abbiamo scelto questo video come video introduttivo alla giornata, però vorrei anche ricordarvi l'appuntamento del 30 marzo. Quindi la prossima settimana non ci saranno le elezioni di Europa, riprenderanno il 30 marzo con un appuntamento dedicato ai giovani, ai nuovi fabbisogni di competenze strategiche. Verrà in particolare presentata questa nuova iniziativa di inserimento sociale ALMA che fa parte del Fondo Sociale Europeo PLUS. Quindi cortesemente registratevi perché è molto interessante, ci sarà un funzionario da Bruxelles che spiegherà in che modo funziona questa iniziativa. Come sempre nelle slide trovate poi i link a tutte le lezioni, per partecipare dovete iscrivervi ad ogni singola lezione. Oggi nella lezione che presenterà il programma avremo il punto di contatto nazionale nella persona di Manuela Marsano che è il punto di informazione in Italia sul programma. Quindi potete poi restare in contatto con lei anche dopo questa giornata. E poi presenteranno un'iniziativa o meglio due progetti, il Comune di Asti, perché sono stati indicati proprio dalla Commissione Europea come esempi di buone prasse di due progetti che sono stati finanziati nell'ambito di questo programma e che riguardano le reti di città e i gemellaggi di città. Quindi abbastanza indicativi per gli enti locali. Vi ricordo alcuni appuntamenti, vi ricordo in particolare il ciclo di cinque incontri che avverrà sempre senza, ma ci sarà la possibilità di seguirli anche in diretta streaming dal 3 al 31 maggio. Questo ciclo di incontri sarà sul contrasto alle fake news, quindi informare e formare per contrastare la disinformazione in Europa. Anche qui sono già pronti nei 20p alle schede, dovete semplicemente registrarvi. Ancora vi ricordo che tra settembre e dicembre avremo invece un ciclo di webinar informativi per i cittadini che si inserisce nell'ambito del Piano Europeo di lotta contro il cancro e che ha come obiettivo quello di svolgere un'azione di informazione per la prevenzione del cancro. Questa è una tematica molto importante perché appunto il Piano Europeo di lotta contro il cancro insiste appunto su questo concetto della prevenzione e quindi noi affronteremo tutta una serie di temi che vanno in quella direzione. In più vi ricordo che attualmente è in corso anche un altro ciclo di tre incontri che è cominciato il 23 febbraio e si concluderà l'11 maggio dedicato alla storia, quindi tempi difficili, guerre, conflitti e crisi nello scenario internazionale. Questo ciclo di incontri è fatto in collaborazione con la Conrad Adenauer Stiftung e i centri di Europe Direct dell'Emilia-Romagna, Università di Siena e poi chiaramente il nostro Roma Innovazione. Ancora abbiamo in corso un ciclo sulla cultura finanziaria del cittadino. Il prossimo incontro sarà dedicato appunto alle transazioni online ed è in particolare destinato agli studenti delle classi quinte con preferenza diciamo agli istituti tecnici e professionali. Si parlerà del mondo dei pagamenti, degli strumenti di pagamento e quindi anche delle transazioni online. Questo si terrà il 17 aprile 2023 e sarà interamente online. Ancora vi ricordo che invece il 30 maggio avremo un'iniziativa dedicata a Davide Sassoli, questa si terrà in presenza a Viterbo ma questa non sarà trasmessa in diretta streaming. Quindi sarà un evento in presenza che si terrà a Viterbo. Vi ricordiamo come sempre il nostro punto di informazione online che è Europa.formance.it dove è possibile scaricare la newsletter o abbonarsi alla newsletter. L'abbonamento alla newsletter tra l'altro vi dà anche la possibilità di essere inseriti nelle nostre liste per inviarvi gli inviti quando organizziamo delle nuove attività. Come sempre abbiamo le banche dati, programmi comunitari, bandi, scadenza ed eventi. In particolare nella banca dati, programmi comunitari trovate una scheda dedicata al programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori con all'interno tutti i bandi aperti che sono stati già pubblicati appunto sul sito EU Funding and Tenter Program. Vi ricordo che noi abbiamo anche lo scadenzario bandi che comprende tutti i bandi che vengono pubblicati nell'ambito di tutti i progetti. Ora lascio la parola a Manuela Marsano del punto di contatto nazionale del programma CERV in Italia che ringrazio per aver dato la disponibilità a partecipare a questa giornata. Buon webinar a tutti. Grazie, grazie mille Claudia. Io ringrazio davvero per l'invito a tutti gli organizzatori. Queste per noi sono occasioni molto importanti grazie al Form e a tutti gli Europe Direct che partecipano a questa iniziativa che è veramente lodevole perché apre a un grande pubblico tutte le informazioni che abbiamo sull'Europa. Io non mi perdo in saluti e passo immediatamente a quello di cui vorrei parlarvi che è il programma CERV appunto come aveva come ha anticipato Claudia il programma cittadinanza, uguaglianza, diritti e lavori e il ruolo del National Contact Point. Intanto io sono Manuela Marsano e sono stata chiamata a svolgere questa funzione responsabile del punto di contatto nazionale del programma CERV da qualche mese. Prima mi sono occupata di europrogettazione e di formazione sulla progettazione. Per cui sono abbastanza nuova in questo lavoro che sto prendendo con molto entusiasmo perché è molto interessante ed è diciamo il National Contact Point quello che fa è supportare i beneficiari e potenziali beneficiari nella presentazione di proposte e poi anche nella loro implementazione. Quindi di cosa si occupa il National Contact Point? Fornisce informazioni e assistenza tecnica sul programma. Il National Contact Point è un luogo diciamo ufficiale, siamo finanziati dalla Commissione Europea quindi le informazioni che vi arrivano da noi sono ufficiali ma sono in italiano e quindi diciamo hanno la stessa valenza di poi della Commissione Europea però le possiamo dare in lingua italiana. Forniamo anche un supporto nella ricerca di partner progettuali, organizziamo degli eventi, terremo dei webinar nei prossimi mesi sulle call aperte e poi partecipiamo come in questo caso ad eventi di promozione e informazione sul programma. Oltre a questo promuoviamo i risultati dei progetti finanziati sul programma e fungiamo anche un po' da anello di congiunzione tra la realtà nazionale e la Commissione Europea. Quindi possiamo anche portare a livello europeo quelle che sono le istanze e le problematiche nazionali. Io riceverete le mie slide quindi su questa naturalmente corro però giusto per mostrarvi che abbiamo tutti i canali di informazione e comunicazione aperti quindi sito web, un'email a cui potete rivolgervi in qualsiasi momento, una pagina Facebook, LinkedIn, lanciamo dei sondaggi e poi ho inserito anche il sito ufficiale di CERV, quello della Commissione Europea. Giusto in questo giorno 20 marzo si terrà a Roma il lancio ufficiale del National Contact Point presso la sala del parlamentino dell'Inail via 4 novembre. Nel caso siate in zona e vogliate passare vi chiedo di iscriverti, ci sono tutte le informazioni per l'iscrizione sia sul sito che su Facebook. Allora, cominciamo a parlare del programma CERV. Qual è l'obiettivo generale del programma? Come dice l'acronimo, il programma sostiene progetti sul tema dei valori dell'unione, dell'uguaglianza, della partecipazione e della prevenzione della violenza con l'obiettivo di promuovere società aperte, democratiche, inclusive e rendere i cittadini più autonomi sviluppando ulteriormente lo spazio europeo di giustizia. Questo diciamo è l'obiettivo generale del programma che si sostanzia poi in quattro aree di intervento che sono i quattro pilastri di finanziamento del programma, cioè salvaguardare e promuovere i valori dell'unione, promuovere i diritti, la non discriminazione e l'uguaglianza, promuovere il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini, contrastare la violenza compresa la violenza di genere. Questi sono i quattro grandi pilastri su cui poggia il programma CERV e promuove quindi in questo programma che unisce dei programmi che precedentemente avevano diciamo vita propria che erano Europa per i cittadini, il programma DAFNE e il programma REC. Sono tutti diciamo riuniti sotto il grande cappello di CERV in questa in questa programmazione. Quindi è un è un programma diciamo che ne abbraccia altri per questo ha una serie di eh di pilastri fondamentali su cui su cui si basa. Allora che cosa ehm diciamo andiamo un po' a vedere all'interno dei pilastri di cui ho parlato che cosa si finanzia. Intanto il ehm il primo pilastro è il pilastro uguaglianza, il pilastro equal. Diciamo che leggendo l'articolo due del testo unico dell'Unione Europea eh andiamo diciamo è nel nell'articolo due che troviamo esattamente che cosa finanzia questo pilastro? Vado a leggerlo. L'Unione Europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Bene, la sei equal finanzia tutto questo. Quindi promozione salvaguardia dei diritti, sensibilizzazione delle società rispetto a tematiche relative agli stessi diritti. Si promuovono e si proteggono i valori dell'Unione Europea. In particolare quello dello stato di diritto e di esercizio dei diritti europei all'interno dell'Unione Europea. Ehm l'altro l'altro pilastro è quello legato alla promozione dei diritti, la non discriminazione e l'uguaglianza. E qua abbiamo al di sotto di questo pilastro quattro grandi tematiche. Prevenire e combattere la disuguaglianza e le discriminazioni, promuovere il pieno esercizio dei diritti, combattere ogni forma di intolleranza e tutelare i diritti dell'infanzia e delle persone con disabilità. Quindi quattro grandi ehm diciamo topic all'interno della priorità uguaglianza. Il primo volto alla prevenzione e di tutta diciamo è la lotta di tutte le disuguaglianze e le discriminazioni, tutte fondate quindi sul sesso, la razza, l'origine etnica, la religione, convinzioni personali, l'età, l'orientamento sessuale. Insomma all'interno della primo del primo strand si possono realizzare progetti per combattere tutti i tipi di disuguaglianza e discriminazione. Il secondo è la promozione del pieno accesso dei diritti in particolare da parte delle donne. Quindi qua vengono finanziati progetti sulla parità di genere, sull'accesso ugualitario al mondo del lavoro e non solo, anche al mondo eh diciamo alla vita sociale da parte delle donne, l'emancipazione delle donne e l'integrazione della dimensione di genere. Ora sulla dimensione di genere apro un attimo una parentesi perché in tutti io parlerò poi di una serie di bandi che sono aperti adesso e apriranno in futuro anche ehm sotto il programma CERV. Allora il tema della dimensione di genere deve essere integrato in tutti tutti i progetti che verranno presentati su quest'azione. L'Unione Europea sta facendo un lavoro molto interessante sul gender mainstream, lo sta diciamo inserendo in tutti i programmi di finanziamento, in alcuni casi non si può partecipare se non si ha il piano sull'uguaglianza di genere ma in questo in questo programma in particolare vengono valutati positivamente i progetti che hanno un approccio di genere eh. Quindi mi raccomando nel caso in cui vogliate presentare progetti ricordate questa parte. Ehm il terzo strand invece è combattere razzismo, xenofobia, ogni forma di intolleranza incluse omofobia, bifobia, transfobia, interfobia o intolleranze fondate sull'identità di genere sia online che offline. Ecco quindi qua progetti volte a combattere l'intolleranza da tutti i punti di vista e ha e c'è questo approccio appunto non soltanto diciamo in presenza ma anche online. Tutta una serie di bandi aperti su questo. Poi la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e dei diritti delle persone con disabilità. Su questo i bandi apriranno a breve. Quindi su questo tema si potrà lavorare veramente a breve. E la terza priorità è quella più legata alla partecipazione dei cittadini. È un po' quella per chi ha esperienza su questo che viene da Europa per i cittadini, dal programma Europa per i cittadini. L'obiettivo è quello di sostenere problemi e progetti che abbiano una diciamo una serie di eh tre grandi tre grandi temati che vengono vengono affrontate. Il tema della memoria, il tema della partecipazione e il tema dello scambio. Per quanto riguarda il tema della memoria l'obiettivo è quello di promuovere progetti che ehm commemorino momenti salienti della storia europea. Questo perché eh la storia europea ci è comune e quindi eh in alcuni casi si è visto magari su fronti opposti però comunque l'Europa nasce su una storia comune e quindi un po' l'obiettivo è questo anche di ricordare la memoria no? È importante ricordare anche per non ripetere certi certi errori. Quindi anche su questo c'è insomma c'è un finanziamento aperto che vedremo dopo. Un altro eh diciamo interessante è la partecipazione civica, la partecipazione dei cittadini alla vita eh europea, anche delle istituzioni e anche qui c'è un bando che sta aprendo e chiuderà tra poco e poi l'ultimo è lo scambio tra i cittadini di paesi diversi. Questo io lo chiamo un po' l'erasmus dei cittadini no? Nel senso che su questo su questo eh questa linea vengono finanziati dei gemellaggi fra comuni o fra comunità e e delle reti di città che hanno proprio l'obiettivo di ehm eh avvicinare l'Europa ai cittadini e far partecipare i cittadini ad alcune tematiche pubbliche. Quindi è un po' il modo ecco di avvicinare l'Europa ai cittadini e per i cittadini di avvicinarsi all'Europa. L'ultimo strand dei quattro è la lotta alla violenza di genere, quello che era il vecchio programma DAFNE per chi lavora da un po' di tempo su queste su queste tematiche e ehm naturalmente promuove progetti volti a prevenire e contrastare la violenza di genere, la violenza nei confronti delle donne, la violenza domestica o io preferisco dire relazioni di intimità ehm per cui tutto il tema del contrasto e prevenzione della violenza non soltanto contro le donne ma anche contro minori e anche e nel caso dei minori si parla anche di lotta alla violenza assistita da parte dei minori quindi minori o altri gruppi a rischio come per esempio le persone LGBT IQ o le persone con disabilità. Quindi l'obiettivo è proprio sostenere e tutelare le vittime dirette o indirette di di violenza che non è necessariamente per forza fisica ma nelle varie forme appunto di violenza. Ehm dunque quali sono eh i bandi ehm aperti ad oggi? Allora il primo è il bando DAFNE. Eh un bando che ha un eh diciamo è un po' particolare nel senso che in questo in questa programmazione non si finanziano progetti classici ma si finanziano progetti per intermediari. Che cosa significa? Che il bando eh finanzia eh degli intermediari per un valore di progetto che va dal milione e mezzo a tre milioni di euro e gli intermediari sono o dei partner singoli o un raggruppamento di partner che ehm ha l'onere diciamo di gestire questi tre milioni e di ridistribuirli a partner eh che ehm diciamo più piccoli eh li distribuisce attraverso un meccanismo di bandi pubblici ovviamente e trasparenti eh che hanno un valore tra i cinquanta e sessantamila euro. ehm questo questo bando che può sembrare un po' diciamo elitario perché chi partecipa a questo bando considerate che ci saranno circa una quindicina di progetti finanziati in tutta Europa chi si presenta a questo bando deve dimostrare non solo di avere delle competenze eh forti sia nella formazione che nel del sostegno alle vittime ma anche nella capacità di regranting cioè di distribuire eh a partner più piccoli le diciamo il il finanziamento. Ehm che cosa si finanza? Supporto ad hoc alle vittime, prevenzione della violenza, migliorare competenze e consapevolezza dei professionisti che entrano in contatto con la violenza, quindi formazione, formazione nei CAV oppure nelle organizzazioni eh locali anche che lavorano su questo, lavorare sugli stereotipi di genere che possano causare violenza di genere e rafforzare la protezione dei minori. Quindi ecco questo è il diciamo è il bando Daphne che molti magari conoscono però è diciamo più legato alla ehm al trasferimento appunto di di piccoli eh fondi al eh organizzazioni della società civile che quindi possono essere più arrivare più vicino ai cittadini. Questo è importante perché che queste piccole organizzazioni precedentemente avevano difficoltà ad avere accesso a questi fondi in questa maniera si si tende insomma ad arrivare più vicino. Ovvio che queste ehm grandi organizzazioni quindi i meccanismi intermediari che beneficeranno del finanziamento eh hanno l'obbligo di fare bandi trasparenti e transnazionali in maniera che poi il finanziamento possa essere ehm diciamo essere distribuito a livello eh transnazionale. Eh un altro bando aperto è il bando. Perdonami Manuela ti sentiamo meno bene. Ah ok meglio così allora. Così bene? Mi sentite bene ora? Ora ti sentiamo bene grazie. Perfetto. Allora dicevo eh un altro bando importante è il bando Equal eh che è aperto e che scade il ventigiugno e ha come obiettivo proprio quello di finanziare progetti volti a combattere la discriminazione, l'intolleranza, il razzismo, l'antiziganismo, l'antisemitismo, l'omofobia e la xenofobia. Eh è possibile in questo caso presentare progetti nazionali o trasnazionali per un budget complessivo di programma di venti milioni di euro. Eh è possibile in alcune call appunto finanziare presentare progetti sia nazionali che trasnazionali eh ma eh sono sempre incoraggiati i trasnazionali e nel caso in cui vogliate presentare progetti nazionali dovete sempre un po' spiegare il perché. Quindi se vi limitate al territorio nazionale dovete sempre dare un po' una una spiegazione del del perché perché naturalmente i i programmi europei hanno l'obiettivo di non solo eh avere un impatto europeo per una questione proprio di ehm diciamo di equità no? Ma proprio quello di avere un partenariato trasnazionale per poter apprendere reciprocamente e e e quindi lavorare insieme e creare gruppi di lavoro trasnazionali. All'interno del bando Equal ci sono quattro priorità eh che vengono finanziate ciascuna con un suo budget allocato quindi questo dice che le valutazioni sono naturalmente separate quindi e questo lo dico a beneficio anche degli altri bandi nel caso di Cerv non c'è un limite al numero di proposte a cui partecipare sia come coordinatori che come partner dico sempre però che naturalmente se io presento come partner due o tre progetti all'interno di una priorità sto facendo concorrenza da sola e tra l'altro forse mh non ho neanche esattamente l'idea del mio obiettivo reale per cui non questo non è troppo ben visto in ogni caso non c'è nessun limite in particolare se si presenta a se ci si presenta a in un bando come come coordinatori in un altro come come partner. Comunque per tornare alle priorità del bando Equal undici milioni e mezzo sono sulla lotta contro la discriminazione e con e contro il razzismo la xenofobia e tutte le forme di intolleranza inclusi antiziganismo antisemitismo e odio contro i musulmani e un milione e mezzo invece sono sulla promozione del promuovere la gestione della diversità al diversity management sostanzialmente in particolare nel mondo del lavoro sia nel settore pubblico che nel settore privato quindi la promozione della diversità come unicità all'interno del mondo del lavoro. Tre milioni sono sulla lotta contro la discriminazione delle comunità LGBTQI e promozione dell'uguaglianza attraverso in particolare l'implementazione della strategia di uguaglianza di quality strategy sia a livello europeo che a livello nazionale quindi anche la promozione dei piani legati all'uguaglianza a livello nazionale. L'ultimo invece con 4 milioni è rivolto agli enti pubblici esclusivamente agli enti pubblici per aumentare la risposta alla discriminazione all'antisemitismo e tutte le forme di intolleranza ed è rivolto agli enti pubblici perché proprio tende a migliorare non solo diciamo il monitoraggio di queste forme di intolleranza ma anche la messa a disposizione di strumenti per la denuncia. Quindi queste diciamo sono le quattro priorità del bando che sono aperte su Equal e appunto sono diciamo abbastanza diverse le une dalle altre. L'ultima parola che voglio dire su Equal è che l'anno prossimo questo bando non ci sarà, non verrà lanciato e quindi se intendete partecipare partecipate quest'anno. L'altro bando invece di cui vorrei parlarvi è Charliti, che è questo nome bizzarro, è Charter and Litigation e questo bando finanzia proposte volte a potenziare l'applicazione della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e oltre a rafforzare la promozione e la protezione dei diritti riconosciuti dall'Unione. Sono cinque le priorità su cui diciamo si concentra il bando che è attualmente aperto e tutte le priorità diciamo vanno a rendere operativa ecco la carta. La prima priorità è sviluppo delle capacità e aumento della consapevolezza riguardo la Carta dei Diritti Fondamentali. Quindi è proprio un sono quasi finanziano proprio progetti volti ad aumentare la conoscenza e la consapevolezza della carta dell'esistenza della carta e dei suoi contenuti. Quindi ovviamente tutta la carta è oggetto di questo bando ma ci si può ovviamente concentrare anche su dei singoli diritti sanciti nella carta. La seconda la seconda priorità è promozione dei diritti e dei valori attraverso il potenziamento dello spazio civico. Quindi in questo caso si promuovono progetti volti a favorire lo spazio civico, l'allargamento dello spazio civico, quindi proprio il rendere reale e diciamo effettivo il lavoro che si fa attraverso i diritti fondamentali in uno spazio condiviso di civismo. Quindi in questi progetti naturalmente si vede la collaborazione di attori attivi a livello locale, regionale e nazionale volte ad aprire canali di comunicazione tra i livelli nazionali e l'Unione Europea sullo stato dello spazio civico nei diversi paesi. Oltre a questo si incoraggiano progetti legati alla creazione, diffusione e implementazione di strumenti di monitoraggio dell'implementazione dello spazio civico, monitoraggio che deve essere coerente con gli indicatori proposti dall'Agenzia per i diritti fondamentali. Naturalmente in questi progetti si vede bene la partecipazione delle organizzazioni della società civile e in generale di tutta la parte di mondo che si muove intorno al civismo europeo. Il terzo topic è il contenzioso strategico che è un'attività abbastanza legata al mondo del contenzioso, quindi anche al mondo legale e ha proprio l'obiettivo di far entrare la carta anche nel contenzioso e quindi si lavora su progetti volti a far conoscere la carta al settore legale umanitario, non tanto farla conoscere, probabilmente la conoscono, ma proprio farla utilizzare come strumento efficace all'interno del contenzioso. Su questo ci sono progetti, ripeto, abbastanza legati al mondo legale, però sono molto interessanti perché si vede come nel tempo la carta è entrata sempre di più come strumento di difesa. Un altro strand è la protezione dei valori e diritti dell'Unione Europea attraverso la lotta al late crime e al late speech, quindi crimini d'odio e discorsi d'odio. Ne avevo parlato un po' prima, quindi progetti volti a consentire alle organizzazioni della società civile in particolare di cooperare con le autorità pubbliche per sostenere le denunce di episodi di crimini e discorsi d'odio e sostenere le vittime dei crimini e dei discorsi d'odio, sia online, ripeto, che offline. Quindi questo è una linea abbastanza ampia di cui si possono fare progetti di diverso tipo che si concentrano su delle attività, a volte per esempio al tema della formazione, dell'informazione, del buon utilizzo per esempio anche dei social media, dell'accrescimento del tema delle responsabilità, quindi progetti che vedono bene anche la partecipazione di giovani, una linea interessante secondo me. L'ultima priorità di charting litigation è sostenere un ambiente favorevole alla protezione dei whistleblowers, quindi segnalatori di illeciti. questa è una linea abbastanza di nicchia, però è volta proprio alla protezione, diciamo all'implementazione della direttiva 2019-1937 che era proprio volta alla tutela di chi segnala illeciti, in particolare legati e anche legati alla pubblica amministrazione, quindi alla tutela della segretezza non solo dell'identità, ma insomma anche del del contenzioso, un po' di nicchia però anche questa andava andava detta. Il bando scade il 25 maggio del 2023 naturalmente, quindi siamo qui e il budget è di 16 milioni di euro. Faccio un attimo una parentesi, interrompo un attimo sui bandi per dirvi che i progetti del programma CERV hanno tutti un finanziamento all'AMPSAM. Che cosa significa? È un finanziamento forfettario. Perché dico questo? Non voglio entrare nel tecnicismo, però lo dico perché la gestione dei progetti all'AMPSAM è un po' più semplice, soprattutto appunto l'implementazione, perché non è necessario dimostrare puntualmente le spese che si sostengono, ma bisogna dimostrare e rendicontare le attività, cioè il completamento delle attività. Cosa significa? Che io riceverò un X per realizzare una certa attività, per cui non devo dimostrare di aver speso quella somma, ma semplicemente di aver realizzato quell'attività. Lo dico perché questo aiuta moltissimo anche o piccole associazioni o in alcuni casi anche comuni, anche piccoli o medi, no? Perché non hanno tutta la parte, l'onere forte della rendicontazione. Per cui questo volevo dirlo. Ci sono due tipi di LAMPSAM, alcuni diciamo sono più legate a un dettaglio di costi in primis e poi LAMPSAM successivamente, altri invece in cui il budget si costruisce in maniera molto semplice, molto automatica, perché è dato proprio dall'incrocio di numero di attività e numero di partecipanti. Quindi questo volevo dirlo perché magari qualcuno che ci ascolta sente tutta questa quantità di bandi, magari insomma è un po' preoccupato perché ci sono magari diverse azioni che possono essere interessanti. Questo volevo dirlo. Se dapprima LAMPSAM può sembrare qualcosa di complicato, in realtà aiuta moltissimo e agevola nell'implementazione. Allora, tornando ai nostri bandi, il bando Reti di Città ha come obiettivo quello di promuovere le reti che hanno rivolto all'obiettivo di realizzare scambi tra cittadini di paesi diversi e rafforzare la comprensione e la tolleranza, il senso di appartenenza e l'unità europea. Allora, questi progetti sono progetti che prevedono proprio lo scambio di cittadini, ma più che lo scambio di cittadini, lo scambio che i cittadini possono fare su alcune grandi tematiche. Quindi partecipano comuni, i comuni realizzano attività sia in sito che online, sia diciamo su base locale che transnazionale e a queste attività partecipano proprio i cittadini di quel comune. Quindi, quali sono le priorità che vengono, diciamo, sostenute all'interno di Network of Towns? Promuovere la consapevolezza e lo sviluppo di conoscenze riguardo alla cittadinanza europea e i suoi diritti, promuovere la consapevolezza e lo sviluppo di conoscenze rispetto al traguardo del trentesimo anniversario dell'entrata in vigore del Trattato di Maastricht, promuovere sempre consapevolezza e conoscenza rispetto ai temi della diversità e all'uguaglianza di genere e favorire il confronto tra i cittadini per discutere insieme azioni locali riguardo il clima e l'ambiente. Queste sono le grandi tematiche su cui si devono incentrare in questa call precisa di quest'anno i progetti di reti di città. Quindi raggruppamenti di città lavoreranno insieme su uno di questi temi. Naturalmente, per quello che vi dicevo prima, il LAMSAM cresce con il numero di cittadini coinvolti. Questo significa che i progetti devono effettivamente coinvolgere i cittadini e lavorare con la cittadinanza il più possibile. Poi sentiremo l'esperienza di Asti su questo bando. Loro hanno vinto un progetto interessante sul bando dell'anno scorso. Quindi ora incominciano a realizzarlo, ce ne racconteranno tra poco. Naturalmente ci sono ovviamente una serie di requisiti per la presentazione del progetto. Questo in tutti i bandi, quindi si deve essere in alcuni casi pubblici, in alcuni casi anche privati possono partecipare. Ma queste sono informazioni che si trovano su ciascun bando. La scadenza di presentazione è il 20 aprile e il budget a disposizione è di 6 milioni LAMSAM, quindi quello di cui vi parlavo prima. Un altro bando aperto è il bando Remembrance, il bando Memoria Storica Comune Europea, che è uno strumento volto alla realizzazione e alla protezione dei diritti e dei valori fondanti dell'Unione Europea. L'elemento trasversale a tutte le priorità è il tema del genere, di questo già vi ho parlato, ma in particolare in questo programma il tema del genere è anche forse in qualche maniera un po' più forte, togliendo ovviamente la parte di Daphne, perché si ricerca proprio, questo ve lo do come consiglio scritto nel bando, non è una tematica specifica del genere, ma si consiglia di ragionare anche sulla storia vista o con gli occhi delle donne o con, diciamo, come sarebbe stata la storia se il tema appunto della memoria storica attraverso la storia delle donne è un tema che viene supportato moltissimo in questa call. Dicevo, quali sono le priorità? Transizione democratica e rafforzamento delle società basate sullo stato di diritto, la democrazia e i diritti fondamentali, rafforzare la memoria dell'olocausto, i genocidi, i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità, migrazioni, decolonizzazioni e società europee multiculturali e integrazione europea. Queste sono le quattro grandi tematiche su cui si concentrano i progetti in questa call. La novità è un po' la tematica 3, migrazioni, decolonizzazioni e società europee multiculturali e su questo voi pensate sempre alla storia come, ripeto, strumento anche per conoscere meglio il presente e prevenire alcuni, diciamo, alcuni errori fatti precedentemente, e quindi naturalmente qui entra anche progetti che possono avere un impatto anche di interesse sui temi recenti, penso ovviamente alla guerra in Ucraina. In questo caso i progetti, le attività dovranno creare sinergie tra organizzazioni di diverso tipo, quindi si stimola molto la collaborazione e cooperazione tra organizzazioni di diversa natura. Anche qua è possibile realizzare progetti solo nazionali, ma bisognerà spiegare molto bene perché saranno progetti solo nazionali, se no naturalmente anche in questo caso vengono privilegiati i progetti con un partenariato transnazionale. Le attività devono essere di diversa tipologia e integrate, quindi formazione, pubblicazioni, strumenti online, in vari tipi di attività, nel bando troverete la spiegazione più approfondita, vari tipi di attività integrate, istruire e condurre corsi di formazioni anche sul tema dei diritti, anche per i funzionari pubblici, per il sistema giudiziario che partano dalla memoria e approdino veramente nel presente, offrire opportunità di confronto intergenerazionale tra testimoni diretti e future generazioni, quindi lavorare appunto su questo tema della condivisione del ricordo, anche dell'attualizzazione, se volete, del ricordo, e poi coinvolgere persone di diversi gruppi target e di vari gruppi di genere. In questo caso la scadenza è per il 6 giugno e il budget totale della call è di 10.200.000 euro, anche qua il modello di costo è l'AMSAM automatico, in questo caso è il modello 1, quindi il budget cresce con il numero di paesi coinvolti e il numero di azioni che vengono realizzate. Un altro bando è il town twinning, cioè il bando gemellaggi, che ha proprio l'obiettivo di far incontrare cittadini di comuni diversi. Quindi questo progetto, scusate, questo bando è rivolto sia a comuni grandi che a comuni piccoli, ovviamente però secondo me, se dico questo, è molto interessante per i comuni più piccoli perché naturalmente il coinvolgimento della comunità di un comune piccolo porta un impatto molto più grande in generale sulla comunità più alta. Quindi naturalmente se parte un gruppo di 50 persone su un comune di 1000 abitanti ha un impatto, su un comune di 5 milioni di abitanti ha un altro impatto. L'obiettivo è proprio quello di far incontrare i cittadini tra di loro, di farli confrontare su alcune tematiche. Il progetto, il programma, scusate, la col si chiama Gemellaggi, ma non è necessario che i comuni siano gemellati precedentemente. Anche su questo Asti ci racconterà la sua esperienza. E quindi ha proprio l'obiettivo di far conoscere e mettere in rete i cittadini da una parte e naturalmente anche gli amministratori comunali per affrontare insieme alcune tematiche che possano essere di comune interesse. Oppure perché magari questi due comuni hanno delle similitudini o hanno delle differenze, vogliono confrontarsi su queste differenze o hanno dei pezzi di storia comune, no? Quindi è interessante. E molto spesso da questi gemellaggi, da questi progetti di gemellaggio, nascono relazioni durature nel tempo. Si realizzano attività di workshop, di seminari, conferenze, webinar, eventi culturali, anche festival, congiunti, spettacoli. Insomma, qualsiasi cosa possa coinvolgere il cittadino direttamente su alcune cose. Per partecipare bisogna essere comuni oppure bisogna essere rappresentanti di comuni e il bando è aperto il 15 marzo, quindi ieri, chiude il 20 settembre, quindi diciamo che c'è un po' di tempo per partecipare e per ragionare su questo. L'ultimo bando che ha, cioè che non è ancora aperto in realtà, prima del prossimo mese, però abbiamo già l'anteprima e su questo bisogna, insomma, iniziare a ragionarci perché questo è, diciamo, il bando più vicino a quello che era Europa per i cittadini e ha come obiettivo quello di promuovere la partecipazione dei cittadini e delle associazioni di rappresentanza alla vita democratica dell'Unione Europea. Quindi su questo bando si lavora molto sulle opinioni dei cittadini e sulla messa, diciamo, in rete, ma messa in comune di queste opinioni, in particolare dei giovani. Quindi ho sentito che ci sono delle scuole qui, quindi mi raccomando, candidatevi a questo bando perché è molto interessante. Sostanzialmente è proprio la promozione della partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell'Unione Europea e avvicinare i cittadini all'Unione e avvicinare l'Unione ai cittadini, rendere proprio il più possibile i cittadini in grado di interloquire, nel senso anche di capire quali sono gli strumenti di interlocuzione. non ultimo l'importanza del voto durante le elezioni europee, quindi questi sono progetti su queste tematiche. Naturalmente la partecipazione deve essere sostenuta, incoraggiata e resa possibile e le priorità del bando sono appunto la promozione e la partecipazione democratica attraverso il dibattito sul futuro dell'Europa. Questo, ripeto, invito caldamente i giovani, le scuole, a partecipare. Quindi qual è l'Europa che vogliamo, qual è l'Europa che sogniamo e qual è l'Europa di cui abbiamo bisogno. Quindi questi sono i grandi temi sul dibattito sul futuro dell'Europa. Coinvolgere i cittadini e le comunità nella discussione delle azioni relative al clima e all'ambiente. Voi sapete che tutto il tema del Green Deal è come il gender mainstream ed è trasversale a tutti i programmi e tutte le call. Quindi il tema del clima, dell'ambiente, della resilienza, della circular economy, della sharing economy, tutto questo rientra e di nuovo si dibatte, si discute, si ragiona su quello che si vorrà in futuro. È piuttosto interessante anche questo. L'altro, diciamo, topic che viene anche questo d'Europa per i cittadini è, diciamo, coinvolgere i cittadini e le comunità nel dibattito e nelle azioni relative alla solidarietà. Il tema della solidarietà transnazionale, cioè che impatto ha l'appartenere a una comunità transnazionale sul tema della solidarietà e del lavoro in comune. E l'altro punto interessante è contrastare la disinformazione e le altre forme di interferenza nel dibattito democratico e promuovere l'alfabetizzazione mediatica. Quindi qua si lavora sulle fake news, sulla falsa informazione, sull'informazione distorta, che ha appunto come obiettivo anche l'interferenza nel dibattito democratico. Quindi come l'informazione distorta può rendere inefficace o in effettivo un dibattito democratico e come si può, diciamo, contrastare questo tema. Le attività, diciamo, sono varie e variegate. Si possono, diciamo, si possono scrivere progetti che prevedono dibattiti, campagne, attività di sensibilizzazione, conferenze, workshop, eccetera. Quindi attività, diciamo, pubbliche. Ancora, lavorare sulla raccolta di opinioni dal basso, quindi muovere la società civile in maniera che possano dare effettivamente le loro opinioni, pur informate però, attenzione sempre al raccogliere le opinioni in maniera informata. E su questo, apro un'altra parentesi, sulla raccolta di opinioni, però questo lo dico in generale, quando si maneggiano dati, attenzione che tutti i progetti devono avere, devono definire chiaramente tutto il tema della difesa, scusate, della protezione dei dati, quindi tutto il GDPR deve essere applicato in maniera attenta e scrupolosa e questo scrivetelo nei vostri progetti, non datelo per scontato, quindi protezione dei dati. oltre, e questo lo aggiungo qui, il tema che nel momento in cui nei progetti vengono coinvolti dei minori, diciamo, si applica la Child Protection Policy, quindi la protezione dei diritti dei minori, si chiama Child, ma è gli under 18 per gli under 18, quindi nel caso in cui il vostro progetto preveda la partecipazione di minori, bisogna proprio inserire questa politica di protezione per, diciamo, dimostrare che in nessun modo verrà apportato danno ai minori, anche sulla comunicazione, mi raccomando, prestate molta attenzione al coinvolgimento dei minori nella comunicazione. Ancora vengono promossi confronti tra cittadini europei su dei temi riguardo alla politica europea, quindi sia confronti in presenza che anche naturalmente confronti a distanza, sia dibattiti, ma non solo. L'utilizzo delle nuove tecnologie è naturalmente possibile ed è efficace. Identificazione di soluzioni e raccomandazioni possibili da presentare alle autorità pubbliche rilevanti a livello locale, quindi proprio la creazione di proposte che possano essere poi, diciamo, rilanciate sia su un livello locale ma anche a un livello europeo e come è nota in questo bando, in generale, non devono essere finanziate attività che supportino specifici partiti politici. Ancora, i lead applicants, cioè i coordinatori devono essere entità no profit oppure università pubbliche, mentre i co-applicants possono essere entità legale no profit pubbliche e private o organizzazioni internazionali. Tutti i partecipanti devono essere stabiliti in uno Stato membro e devono essere le attività implementate in uno Stato membro. Rispetto a questo, in questa programmazione tutte le attività e i progetti devono essere, devono vedere la partecipazione soltanto dei partner appartenenti a Stati membri. Voi sapete che in alcuni programmi è possibile la partecipazione di Paesi terzi, ma in questo caso ancora nessun Paese terzo ha firmato l'agreement su CERV. Quindi allo Stato dei fatti nessun altro Paese può partecipare né come coordinatore né come partner, può partecipare nel caso come associato, ma senza budget. E' chiaro che nel momento in cui i Paesi terzi firmeranno gli accordi, allora potranno partecipare, ad oggi è possibile farli entrare, ma dovremmo avere la certezza che al momento della firma del Grant Agreement questi Paesi partner abbiano firmato l'accordo di partenariato. Questo vale per tutti i bandi di cui ho parlato fino ad ora, per cui è un po' un rischio, no? Quindi, insomma, questo poi sta a voi. Nel caso, quindi attenzione a questo tema, io in questo momento mi limiterei ai Paesi membri. Il finanziamento non può essere inferiore a 75 mila euro. In questa tornata, diciamo che la Commissione ha stabilito delle basi minime di finanziamento e spesso non in massimale, quindi una dimensione di progetto, ci danno un'idea della dimensione di progetto. Il bando, come vi dicevo, non è ancora aperto, apre il 4 aprile e chiuderà il 5 settembre, quindi anche su questo c'è possibilità di riflettere e scrivere dei buoni progetti. Io avevo tempo fino alle 11 e me lo sono preso tutto. Vi lascio questa slide dove trovate il calendario delle prossime call e naturalmente, ripeto, le slide saranno messe a vostra disposizione successivamente e sul nostro sito trovate tutte le informazioni. Io vi ringrazio per l'attenzione, scusate se ho un po' corso, però ci tenevo a raccontarvi, un po' a darvi una panoramica generale del programma. Sono a disposizione ora, diciamo successivamente all'intervento di Asti, ma in particolare sono a disposizione per i prossimi 5 anni, diciamo, presso il punto di contatto nazionale. Grazie ancora. Grazie mille, Manuela. Sei stata, devo dire, chiarissima. Non lo penso solo io, ma ho visto anche i commenti nella chat da parte dei nostri partecipanti. Ho anche una domanda, però non te la rivolgo ancora perché volevo dare ora la parola ai colleghi di Asti, del comune di Asti, il dottore Amico e la dottoressa Vanacore, così che ci raccontano un esempio concreto di un progetto che è stato finanziato nell'ambito del programma e che tra l'altro appunto da un comune, siccome so che tra i nostri partecipanti ci sono moltissimi comuni, questo potrebbe essere un po' uno stimolo per altri a cimentarsi nella presentazione di proposte di progetto. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Prendo la parola. Dopo l'esposizione di Emanuela che ci ha fatto sognare con tutte le opportunità che offre l'Europa, noi abbiamo il compito di raccontare in breve la nostra esperienza. Io farò da introduzione. Sono responsabile dell'ufficio ricerca e finanziamenti del comune di Asti, un ufficio che è stato istituito nel 2016, anno in cui si è sentita l'esigenza in comune di creare un ufficio che coordinasse tutte le attività di ricerca di finanziamenti attraverso la mappatura dei bandi e coordinamento dei progetti e della rendicontazione degli stessi. Questo per evitare sovrapposizioni, incongruenze e difficoltà che nel passato si erano riscontrate. Devo dire che quando mi hanno proposto questo ufficio io ero impegnato già in attività di progettazione in altri uffici, la prima risposta era stata un no e questo perché avevo chiara l'esperienza già fatta dal comune di Asti di un precedente ufficio di cui per un breve periodo avevo fatto parte che si occupava di progetti europei. È un ufficio che ha lavorato molto bene e che però non è stato capito nel suo complesso dai più perché veniva visto soprattutto come quell'ufficio che organizzava i viaggi in Europa ma che in realtà non portava niente di concreto per la città. Questo lo dico perché un limite nella comprensione delle opportunità che dà l'Europa è questo. Allora nel dire poi in seconda battuta il mio sì ho posto la condizione che questo ufficio non dovesse occuparsi solo di progetti europei progetti ad accesso diretto in Europa questo per dare la possibilità di comprendere che si trattava di un ufficio che desse anche risposte concrete dalle piste ciclabili alle ristrutturazioni ed immobili e oltre a questo le opportunità che vengono fuori dalla programmazione che Manuela ci ha illustrato. Quello che ho capito io in questi anni e qui è la mia esperienza personale che i livelli sono diversi ci sono delle opportunità finanziate dall'Europa che ti consentono la ristrutturazione penso ai fondi PES per esempio di immobili e quindi di modifiche della città che sono percepite come qualche cosa di molto concreto e gradito ai più e poi c'è l'altra parte non meno importante che quella di creare la cittadinanza europea e quindi sentirci tutti i cittadini d'Europa ed è su questo che dobbiamo appunto lavorare in risposta alle opportunità che Manuela ci ha illustrato. Allora una volta che ho posto la condizione mi hanno dato l'opportunità di lavorare in questa direzione vi dico brevemente che dal 2016 ad oggi il nostro ufficio che non è un ufficio di numerosissime persone ha mappato nel senso che legge fa la scheda di sintesi e la manda al settore competente 470 bandi ha scritto 325 progetti 177 dei quali sono stati finanziati per un totale di oltre 86 milioni di euro devo dire che all'interno di questo c'è anche il PNRR di cui stiamo coordinando tutta l'attività in questo volume di lavoro che comporta anche tutta l'attività di rendicontazione come si inserisce l'attività di europrogettazione abbiamo intercettato la disponibilità di Sara come collega che ha competenze linguistiche questo deve essere il primo requisito per chi si dedica a questo tipo di attività una passione perché mentre prima Manuela illustrava tutte le opportunità lei fringeva un po' dicendo come sarebbe bello fare questo perché non facciamo quell'altro quindi un interesse vivo un po' a quello che si sta facendo e il terzo requisito la capacità di relazionare con gli altri uffici con gli altri colleghi di tutto il comune per non far decollare dall'alto le progettazioni e farle sentire come un corpo estraneo che poi non viene diciamo inserito armonicamente nell'attività quindi bisogna saper modulare bene anche la comunicazione con i colleghi per coinvolgerli e farli attrarre a questo tipo di attività che personalmente ritengo molto interessante perché non è di routine generativa e ti dà dell'opportunità di innovare veramente quelle che sono le attività dell'ente e della città questo è il panorama generale per cui in questi anni dal 2016 ad oggi prima ci siamo dedicati come ufficio agli altri tipi di bandi dai fondi FESRA ai fondi ministeriali regionali fondazioni bancarie e poi gradualmente abbiamo iniziato a inserirci nella progettazione europea con progetti ad accesso diretto nella precedente programmazione abbiamo iniziato come partner perché ci sembrava più prudente iniziare così per cominciare a capire come vanno le cose come vengono rendi contati come vengono impostati i meeting e adesso ci siamo lanciati invece in attività in cui siamo capofila e devo dire che lo scorso anno ho lasciato un po' Sara muoversi dietro il mio coordinamento ma pensavo soprattutto un'attività di esercizio scrivi pure quel progetto vediamo come va ma non avevo immaginato che quel progetto fosse poi veramente apprezzato tanto da essere finanziato in sintesi nell'attività dello scorso anno noi abbiamo inserito per la prima volta il corpo europeo di solidarietà nel comune che sta dando l'opportunità adesso a giovani astigiani di poter fare un'esperienza di volontariato in Europa per due settimane e di accogliere sarà a settembre un gruppo di giovani cittadini d'Europa che verranno a fare volontariato in asti questo è nato perché ci siamo candidati a capitale europea del volontariato non l'abbiamo spuntata perché ha vinto un'altra città però abbiamo maturato la consapevolezza di quanto il volontariato in asti sia molto forte sia una forza importante da qui l'idea di questo progetto questo lo dico come cornice mentre i due progetti che sono stati finanziati di cui Sara adesso vi parlerà e lascio a lei la parola sono uno sul programma reti di città del quale nella precedente programmazione europea abbiamo fatto da parte in un precedente progetto e l'altro il town twinning devo dire come sempre introduzione e sempre legato al fatto di rapportarsi in maniera diciamo funzionale con i colleghi degli altri uffici avevo raccolto il bisogno della collega che si occupa dell'ufficio gemellaggi di recuperare delle risorse per poter dar forma al desiderio di continuare a svolgere attività con le due città con cui Asti è gemellata messo questo suo bisogno in un cassetto l'abbiamo tirato fuori nel momento in cui abbiamo visto il bando e Sara ha scritto il progetto adesso do la parola a lei che vi racconta esattamente i contenuti e a che punto siamo nella realizzazione dei due progetti finanziati buongiorno buongiorno a tutti ma io vorrei partire in realtà dicendovi chi sono e quindi perché stiamo facendo questo anche uno dei motivi io porto questa passione qualcuno ha scritto povera Sara viveva la passione ci va ci va assolutamente anche perché l'ho vissuto in prima persona io sono stata un anno all'estero e ho fatto la mia prima esperienza di volontariato di Corpo Europeo di solidarietà fondamentalmente e da lì insomma è nata questa passione ma anche proprio il credo di quanto sia fondamentale di quanto sia importante condividere il senso di cittadinanza attiva il senso di condivisione il senso proprio che l'Europa cerca di trasmettere che a volte forse è un po' difficile che arrivi sembra un po' lontano sembra un po' irraggiungibile quindi questa è un po' la cornice che mi muove e che mi ha mi ha fatta arrivare qui un po' per caso e poi ci siamo incontrati e abbiamo deciso di implementare un po' questa parte i due bandi a cui abbiamo partecipato come diceva il dottor Amico sono uno il Network of Town e l'altro il Town Twinning il Town Twinning ha preso le basi da un gemellaggio che in realtà era già attivo con le due città gemellate di Asti Biberach e Valens in Germania e in Francia e che rischiava per un po' di morire un po' di avere difficoltà nella prosecuzione quindi ci siamo rimboccati le mani che abbiamo creato questo progetto che si terrà tra l'altro tra pochissimo ad Asti dall'11 al 14 di aprile e che vedrà una cinquantina di ragazzi incontrarsi qui ad Asti quindi 41-42 ragazzi da Valens e da Biberach avranno la possibilità di venire qui ad Asti vedere la città incontrarsi con dei loro pari che insomma dopo questi due anni di Covid e online forzato non è già poco e poi abbiamo insomma progettato due giornate molto intense dedicate esclusivamente a loro quindi una è rispetto al volontariato che cosa si può fare con queste ore di vita che tanto spesso rischiamo di perdere nella frenesia e nella fretta quindi la croce verde e la croce rossa di Asti ci farà vedere un po' ci mostreranno le loro attività i loro luoghi i loro volontari preziosissimi e nell'altra giornata un professore dell'Università degli Studi di Torino di Management verrà a fare tutta una serie di attività sul decision making in Europa quindi le strutture in Europa come prendono le decisioni come si accordano quali sono i processi e mostrando anche quali sono le opportunità europee per questi ragazzi che si affacciano al mondo dell'università si affacciano al loro mondo di vita dopo il liceo questo è stato quello che Beppe definiva insomma il nostro esercizio che invece è andato a buon fine e che quindi è stato vi dico soltanto un po' di tempistiche per chi ha l'ascolto che forse può essere importante e necessario la call dell'anno scorso è stata pubblicata a novembre del 2021 noi l'abbiamo poi presentata entro la deadline di marzo e c'è stata valutata a settembre quindi implementiamo le attività adesso ad aprile e il totale del budget è di quasi 8000 euro quindi questo era proprio il primissimo step che abbiamo fatto per entrare in Europa ma di cui siamo molto orgogliosi l'altra è la Network of Town quindi sempre sotto la linea CERV e è un po' più grande è un progetto un po' più grosso di sette partner europei due italiani due spagnoli una dalla Bulgaria una dalla Romania e un portoghese in tutto sono circa 175 mila euro di progetto della durata di due anni questi si svolgeranno diversi meeting internazionali il primo e il primo sarà qui ad Asti a fine marzo su tema ambiente nello specifico Green Deal quindi che cosa questo Green Deal può fare per la pubblica amministrazione soprattutto come la pubblica amministrazione può calarlo nella realtà della propria territorialità del proprio ente locale quindi obiettivo scambio di buone pratiche tra tutti questi paesi molti dei quali sono già impegnati in azioni ad esempio nella settimana Green quindi hanno già delle buone pratiche da portare avanti io volevo portarmi un po' questa nostra esperienza perché ci siamo lanciati in questa call e abbiamo provato nulla infattibile secondo me è anche un messaggio che noi dobbiamo dare rispetto a questi progetti ci abbiamo provato ci abbiamo creduto nel senso che provare tanto per provare non serve a niente però se si ha un'idea progettuale buona noi non eravamo io non ero un'esperta in progettazione ci abbiamo provato ci abbiamo creduto ci sono stati finanziati quindi non è infattibile l'application è abbastanza semplice molte parti essendo l'AMSAM budget come diceva Manuela in realtà non sono da compilare quindi insomma ci aiuta nella progettazione provate perché insomma per me l'avere tentato con delle idee buone ad essere riuscita è stato veramente un successo senza precedenti di cui sono molto orgogliosa e quindi adesso tra pochissimo inizieremo a vedere i frutti quindi adesso siamo nella parte difficile di gestire il progetto precedente e seminare i nuovi i nuovi progetti però insomma tutto si fa ci va una buona organizzazione ma io io vi rimando l'idea di provare perché è un'esperienza meravigliosa e la call check secondo me è ben calibrata sulla sulla macchina dell'amministrazione pubblica quindi è fattibile aggiungo ancora questo che stiamo lavorando andando oltre il CERB per un Erasmus Sport con scadenza il 22 di marzo e che nel progetto Reti di città che è stato finanziato ogni meeting avrà anche un focus sulle opportunità che l'Europa offre ai comuni per poter implementare dei progetti sulla tematica dell'ambiente e dare forma quindi al Green Deal questo per sostenere il desiderio da parte delle amministrazioni pubbliche di adeguare le proprie prassi le proprie azioni a quello che è l'indirizzo europeo rispetto a questa tematica dell'ambiente che di estrema attualità allora la passione da dove nasce nasce dal fatto che vedi completamente la possibilità di far realizzare nella tua città delle cose che sono estremamente utili e che ti fanno sentire Europa questo è quello che ci motiva nel lavoro che questo tipo di attività richiede e che va anche oltre dalla logica del cartellino perché se hai una scadenza non stai a guardare che alle 14 finisce il tuo orario di ufficio siamo anche bravi nel riuscire a organizzare i nostri tempi senza stravolgere le nostre giornate quindi io ho uno staff di persone che stanno lavorando nessuna è stravolta dal lavoro riusciamo tutti senza dover fare degli straordinari esagerati a lavorare diciamo serenamente bisogna partire per tempo bisogna organizzarsi e soprattutto avere come forma mentis quello che è il metodo che l'Europa ti chiede nel impostare i progetti troppa emotività non ci aiuta ecco bisogna essere abbastanza razionali avere acquisito il metodo io ho fatto diversi master in europrogettazione questi li sto mettendo a disposizione noi abbiamo concluso il nostro intervento sperando di aver dato uno stimolo a chi ci ascolta nel buttarsi in questo tipo di attività volevo dire solo un'altra cosa Claudia se posso velocissimo stavo parlando le tue domande rispetto alla sostenibilità allora è chiaro che il town twinning quindi quello che è soltanto un evento che viene finanziato dall'Unione Europea non ha in sé almeno per questo che abbiamo previsto noi una sostenibilità se non la partecipazione tramite il partenariato ad altri progetti quindi la nostra idea era quella che è un po' la rete di partner e di come dire riuscisse a ripresentare una volta ciascuno questo tipo di esperienze e quindi replicare questi miti in questo modo l'altro progetto invece il Clare quello delle reti di città ha già invece una sua buona dose di sostenibilità nel senso che già la creazione di un action plan rispetto al tema green è assolutamente centrato rispetto alla sostenibilità perché è una cosa prodotta dall'amministrazione che ha benissimo il quadro di quanto possa dare possa investire in quell'action plan e quindi lo porta avanti lo scrive lo porta avanti secondo le proprie risorse secondo le proprie energie volevo soltanto dire questo perché l'avevo visto nelle domande grazie sì voglio invitare anche Manuela rimanete cortesemente in video Manuela forse voleva aggiungere qualcosa e poi dopo ho giusto una domandina da parte del pubblico ma principalmente io voglio ringraziarvi per questa bellissima testimonianza che spero veramente possa incoraggiare altri enti locali a perseguire la stessa strada perché diciamo in questo noi siamo un po' più timidi noi comuni italiani diciamo mi faccio un po' portavoce perché noi lavoriamo molto con le regioni in particolare con quelle del sud e notiamo che ogni volta che facciamo questi cicli sulla progettazione c'è un po' di resistenza da parte degli enti pubblici perché dice è difficile vincere i progetti invece voi avete dimostrato che basta la buona volontà un po' di testa e le cose si possono realizzare chiedo perdono passo subito la parola a Manuela che voleva dire qualcosa poi la riprenderò alla fine volevo ringraziare veramente Comune di Asti per questa testimonianza a me piace sempre dopo che parlo in maniera teorica avere una testimonianza pratica proprio per questo perché così chi ci ascolta vede che le cose non sono così delle filosofie ma è possibile applicarle io andrò da loro a fine mese sono molto contenta perché c'è il lancio del progetto sulle reti e quando li ho sentiti quando li ho conosciuti soltanto in video non ci conosciamo personalmente ho pensato a loro proprio per due cose una è perché mi hanno detto ci abbiamo provato e ce l'abbiamo fatta e quindi questo secondo me è un modo giusto per credere in se stessi credere nella capacità amministrativa anche perché le persone sono anche parte di una macchina più ampia e diciamo criticarsi troppo diciamo che criticarsi troppo non va neanche bene ecco essere consapevole dei propri limiti sì ma criticarsi troppo non va bene quindi secondo me è uno slancio in questo senso anche quello che diceva Giuseppe prima rispetto alle competenze trasversali che si acquisiscono partecipando ai progetti come cambia la macchina amministrativa quando si fanno progetti europei indipendentemente dal contenuto metodi di lavoro diversi metodi di lavoro che ti permettono anche di uscire prima e andarti a prendere un aperitivo perché se le cose si fanno bene si fanno veramente si possono fare nei tempi non serve appunto lavorare 30 ore al giorno quindi questi secondo me sono messaggi importanti la passione è una cosa che sento molto mia la passione la qualità la competenza il coraggio anche di fare delle scelte e l'ultimo passaggio poi taccio veramente diceva Giuseppe la collega dei gemellaggi ci aveva detto che voleva andare avanti su questo allora l'individuazione del bisogno perché se un progetto non nasce dal bisogno poi non sarà sostenibile nel tempo quindi questo è un altro punto importante non fare i progetti perché escono i bandi ma prima di tutto individuare i bisogni reali e poi trovare il bando giusto per finanziarli non al contrario assolutamente non al contrario perché altrimenti ci troveremo ripeto ad avere dei progetti non condivisi e quindi non sostenibili e taccio sono Manuela siamo perfettamente d'accordo nelle giornate informative che noi organizziamo con questo lo facciamo sempre presente cioè bisogna capire l'amministrazione su che cosa vuole investire e poi dopo andare a cercare il bando più adatto perché di bandi ce ne sono tantissimi e di tutti i tipi il problema è vedere dove l'amministratore vuole andare se concentrarsi appunto su progetti di volontariato di città ambientali e quindi poi dedicarsi a quello così come lo avevamo detto anche la scorsa volta a volte si fa l'errore di diciamo interpellare l'euro progettista ma l'euro progettista ci può compilare il formulario ma l'input l'idea deve partire dalle nostre amministrazioni se vogliamo che queste poi abbiano diciamo una certa valenza sul territorio ho una domanda per per Manuela io penso che questa domanda è arrivata mentre parlavi dei progetti con il coinvolgimento dei cittadini la domanda è in che modo coinvolgerli o dove coinvolgerli quindi se cortesemente ci puoi un po' puoi tornare un po' su questo sì allora il allora il tema della partecipazione del coinvolgimento questo a prescindere dal programma dal bando in generale uno dei miei consigli è quello di aprire alla partecipazione nelle aree in cui è possibile realmente partecipare prova a spiegare meglio non chiamiamo i cittadini a partecipare o a fare delle scelte se poi non prenderemo in considerazione il risultato della loro partecipazione quindi la prima cosa è definire con precisione su che cosa i cittadini su che cosa chiamiamo i cittadini a dire la loro e poi però teniamo sempre in considerazione esattamente ciò che ci hanno chiesto i cittadini quindi la restituzione la restituzione l'accountability è importantissima perché altrimenti magari la prima volta partecipano la seconda anche però poi si vedono che non è successo niente allora primo consiglio è individuare anche all'interno del progetto esattamente su cosa si chiede la partecipazione definirne chiaramente il perimetro e poi chiamare su quello perché se si individua qualcosa anche di concreto o comunque limitato nel diciamo delimitato ecco probabilmente è più semplice chiamare e individuare anche quelli che si definiscono stakeholders più interessati quindi quando parliamo di cittadini possiamo parlare o di gruppi di cittadini e quindi dire mi interessa conoscere l'opinione dei giovani chiaro che proverò a coinvolgere le scuole si proverò a coinvolgere le scuole ma apro e chiudo parentesi non tutti i giovani sono nelle scuole soprattutto dopo un'età quindi anche ragionare sul tema dei need può essere un gruppo target interessante e allora per esempio possiamo rivolgerci all'associazionismo sportivo che è un altro ambito parlo sempre magari di giovani per dare un'idea oppure lavorare per esempio anche con un coinvolgimento in diretto attraverso i social network oppure chiamare attraverso io prestate sempre molta attenzione ai canali di comunicazione giusti perché i boomer pensano che attraverso facebook pensano loro che attraverso facebook fassi tutto non è così quindi non è detto che una cosa messa su facebook arrivi a un pubblico giovane anzi non arriva più a un pubblico giovane quindi anche proprio utilizzare i canali giusti di coinvolgimento io non non ho mai creduto molto nella ricompensa al coinvolgimento perché penso che si debba dare invece valore alla possibilità di essere coinvolti quindi è un po' al contrario molto spesso si utilizza vieni a raccontarci la tua sull'Europa ti offriamo la pizzetta al contrario mi sto dando una grande opportunità che è quella di raccontare quello che tu pensi dell'Europa e poi però vedere che le cose rimanendo legati al diritto a raccontare quindi poi anche al dovere essere parte di una comunità magari ecco continuare su un percorso di coinvolgimento anche sempre se penso ai giovani in diversi ambiti è stato molto bello il video che hai che non è molto bello molto duro però attraverso diversi canali di comunicazione possono essere la musica può essere il teatro può essere il cinema può essere non so una manifestazione sportiva quindi utilizzare veramente diversi canali di engagement però io rimarrei sempre sulla sulla bellezza della diciamo della partecipazione in sé non deve essere storta la partecipazione deve essere perché se no si storce fino a un certo punto poi non funziona più quindi deve essere resa un po' continuativa questo penso in particolare ai giovani poi io credo che il coinvolgimento dei cittadini non lo so io vi parlo dell'ultima esperienza io lavoro sono funzionaria pubblica tuttora sono in aspettativa ma sono funzionaria pubblica e nell'ultimo progetto grosso che ho scritto ho lavorato per il coinvolgimento attraverso una tecnica di coprogettazione in primis quindi ho chiamato in fase di progettazione i cittadini a dirmi la loro su un grosso progetto questo perché perché se si coprogetta col target non necessariamente con tutta la cittadinanza ma con dei portatori di interesse e si riescono a mettere nella proposta progettuale delle attività che sono di interesse di quel gruppo target allora sarà poi più facile richiamarli perché noi nel nostro progetto abbiamo già scritto che cosa loro vorranno quindi questo la coprogettazione è un passaggio importante e poi la responsabilizzazione e il coinvolgimento io considerate che in questo progetto ripeto sostanzioso di un baggio di 6 milioni di euro ho fatto fare comunicazione e valutazione cioè non ne ho fatto fare il progetto ha permesso ai cittadini di fare la comunicazione e la valutazione del progetto quindi se dopo un coinvolgimento diretto sulle attività attraverso ovviamente corsi di comunicazione e corsi di valutazione però quello che loro comunicavano e quello che loro valutavano era quello che che era per noi che andava alla Commissione Europea e una volta che ho stabilito le regole del gioco però anche anche l'amministrazione si mette in gioco e si fa valutare perché perché ho pensato questo perché era l'unico modo per rendere il progetto diciamo veramente per portare il progetto veramente vicino agli altri cittadini perché se una cosa me la dice il mio vicino di casa orse gli credo un po' di più che se me la dice l'amministrazione se non dovrebbe essere così però diciamo partiamo dallo stesso livello quindi man mano grazie a queste a questi anche testimonial del progetto che erano stati formati che continuavano a lavorare con noi si è ampliato il gruppo di partecipazione e coinvolgimento quindi insomma tecniche un po' anche di estro magari vi devo chiedere scusa perché dobbiamo lasciare l'aula io ringrazio Manuela perché è stata chiarissima ringrazio anche i colleghi del comune di Asti per questa bellissima testimonianza vi chiedo scusa se oggi dobbiamo abbandonare l'aula così velocemente ma c'è un webinar che comincia subito dopo quindi dobbiamo lasciare libero il posto però vi ricordo l'appuntamento del 30 marzo dove parleremo appunto dell'iniziativa Alma destinata ai NIDS quindi vi prego di seguirla perché anche quella è una nuova iniziativa si inserisce nel Fondo Sociale Europeo Plus può essere interessante ascoltarla grazie a tutti e ci vediamo grazie a voi per coloro che vorranno seguirci grazie a tutti arrivederci grazie grazie a tutti grazie a tutti